Musica Carissimi telespettatori, ben ritornati con noi, è arrivato il momento di parlare di questioni di lavoro. Ci sono vari temi molto importanti, si è incardinato il nuovo governo e quindi vediamo quali sono anche le proposte, le prospettive. Le facciamo con il nostro esperto Luigi Sposato, ben arrivato qui con noi professore, presidente di Eurointerim SPA. Grazie per l'invito, un piacere. Prima di cominciare la perniciosa questione, perché abbiamo diverse situazioni da analizzare. Tra l'altro lei ha pronosticato determinate situazioni col precedente governo, quando si era parlato di progetto giovane, ci ha anche azzeccato. Quindi andiamo a vedere un po' in generale la situazione. Io però vorrei far un piccolo cappello, perché come presidente di Eurointerim, società di lavoro e di somministrazione di lavoro, lavoro interinale, che dir si voglia, avete ottenuto dei brillanti risultati e fatto anche delle simpatiche e utili iniziative. E mi piacerebbe un po' così raccontarle, perché se no si raccontano tutti poi non si sanno. Quindi momento di bilanci anche per voi, cosa è venuto fuori? Grazie per la domanda, perché in genere purtroppo ancora qualcuno vede le agenzie per il lavoro come sfruttatori di lavoratori, come chissà su quali soggetti che lucrano sulle persone. In realtà non è così, le agenzie per il lavoro hanno un ruolo sociale importante, oltre a far incontrare in maniera efficace domanda e offerta di lavoro, organizzano anche attività socialmente utili. Basta pensare a tutto il discorso delle politiche attive del lavoro, di chi perde il lavoro viene riformato, viene accompagnato, resegnata di ricollocazione, sostegna il reddito su tutte le iniziative che il vecchio governo comunque aveva messo in campo. E quest'ambito delle politiche attive a mio avviso interessante, altre magari meno condivisibili. E sono strutture, siamo delle agenzie, delle società che riteniamo importanti sul territorio. Noi rivendichiamo questa presenza e lo facciamo poi a livello come Euro Inter, l'azienda padovana, Veneta, per la maggiore anche se abbiamo una caratura nazionale. Facciamo anche tante iniziative socialmente utili, sosteniamo donne in difficoltà, giovani non accompagnati, minorenni non accompagnati, li aiutiamo a trovare l'occupazione. Iniziativa di domani che faremo proprio in azienda, faremo l'azienda aperta ai bambini dei nostri dipendenti. Facciamo in pratica una giornata dove ospitiamo le mamme che lavorano, queste tutte donne sono nei nostri uffici, e facciamo venire i bambini, li facciamo fare una giornata insieme, mangiare insieme, vivere l'azienda insieme. Abbiamo fatto di recente la presentazione del bilancio sociale. Insomma diciamo che francamente ci sentiamo serenamente consapevoli che il ruolo di queste strutture private è un ruolo importante. Noi li ritengono valorizzati abbastanza, e che spesso ribadisco ci si associa alle cooperative, e le cooperative di lavoro sono un'altra cosa. Ma forse perché alcune sono, non dico multinazionali, però non hanno operato correttamente, non è utile fare i nomi, tanto si sa anche le due o tre che circolano. Ci sta anche, in una situazione comunque complessivamente positiva, ci sta anche, non dimentichiamoci che ci sono 3.500 sportelli, che ci sono 20.000 operatori, c'è un indotto di altre volte tanto di dipendenti fissi, ci sono migliaia di clienti, formazione, insomma, diciamo che... Voi lavorate più ad persona. Però ogni tanto c'è qualcosa che non funziona, questo bisogna, come tutte le cose. Voi lavorate molto ad persona, cioè un rapporto diretto, seguite un po' tutto, non solo le persone che lavorano con voi, con questa prospettiva quasi di asilo aziendale, che però insomma dai, è quasi un avvio, ma per altre, anche per chi collabora, poi viene a collaborare con voi, vero? Eh sì, noi diciamo che siamo un contenitore, sempre in movimento, in evoluzione, e questo porta vantaggio anche ai soggetti esterni, per esempio abbiamo realizzato Quinto Piano, che è un contenitore di... dove si fanno la ripetizione classica, dopo scuola, ma un dopo scuola un pochino più mirato, motivazionale, con dei giovani laureati che prendiamo assunti, che facciamo lavorare per noi. Insomma siamo, riteniamo, appena c'è un'opportunità di business, ovviamente la cogliamo, se poi questa, come spesso accade, si può essere un vantaggio anche per l'ambiente circostante, quindi la società, la città, noi la facciamo più in volentieri, quindi... Invece per quanto riguarda Tirante, vabbè, non è momento di fare bilanci, però un bilancio di un anno di lavoro come società, è un bilancio positivo? Sì, noi abbiamo chiuso il 2017 con 12.000 contratti di lavoro. Che è un buon numero. Sì, insomma, di contratti di lavoro sì, avevano migliaia di ore di formazione, abbiamo ospitato circa, nei nostri uffici, circa 500 ragazzi delle scuole, con l'alternanza scuola e lavoro, per esempio. Ah, ecco, c'è anche il discorso. Noi abbiamo gli accordi con la direzione provinciale del lavoro di Padova, ma anche in altre città d'Italia, e abbiamo ospitato e ospitiamo per gli stagi ragazzi interessanti, insomma, questo è solo uno costo per noi, perché non c'è nessun guadagno su questo. Ecco, quindi, io ritengo che le agenzie per il lavoro siano insieme ai futuri centri per l'impiego, ecco, perché si sta parlando di riformare i centri per l'impiego, diciamo che insieme si può fare rete, però bisogna che ci sia, secondo me, anche concorrenza tra i soggetti, una concorrenza sana, ecco, non una repressione delle attività dell'altro. Ecco, io credo che è sbagliato giudicare quando non si conosce, ecco. Ecco, per questa proposta, stanno arrivando i messaggi, solo che io chiedo cortesemente dalla regia, se ci vengono un attimo a chiarire il video, che non è tanto ben chiaro. Buongiorno, per esperienza vi dico che l'unica volta che ho trovato lavoro che si è trasformato da occasionale a indeterminato è stato proprio tramite un interinale. Se aspettassi centri per l'impiego, sarei ancora sul divano da messo. Sì, sì, no, ma questo, guardi, il discorso, purtroppo, i centri per l'impiego coinvolgono circa 8 mila dipendenti in ambito nazionale, costano allo Stato, quindi alle nostre tasche, quasi 500 milioni all'anno. Paradosso è che sono distribuiti... Che sono distribuiti per provincia, però sono in carico alle regioni adesso. Sì, 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 è in carico le nostre tasche, no? Eh, esatto. Sono, dicevo prima, fuori onda, che ci sono 8 mila dipendenti. Che sono tanti. 2 mila, ci sono tantini, per il risultato che fanno, riescono a collocare solamente, forse, un 2% della forza lavoro, e soprattutto quelle categorie un po' in difficoltà, disagiate, categorie protette. Ma la cosa un po' simpatica e curiosa è che 8 mila dipendenti dei centri per l'impiego sono 2.500 al nord, dove c'è comunque qualche sbocco professionale, 1.500 al centro e ben 4 mila dipendenti al sud, dove il lavoro non c'è. Si comprende bene che, visto che si parla di riforma dei centri per l'impiego, che sarà una... Quindi diventa un altro un occupificio, insomma, tipo un po' i forestali della situazione. Si, si, diventa un discorso pulito, un discorso burocratico, ma nulla a che vedere con l'occupazione. Poi c'è, come diceva lei, c'era anche il discorso che hanno base regionale, addirittura provinciale, ogni provincia ha il proprio centro per l'impiego. In Italia ci sono tante regioni, sento di recente anche il ministro, che ha tanta buona volontà, che vuole andare a vedere come funziona il sistema tedesco. Va detto alcune cose, che il sistema tedesco, che abbiamo studiato bene negli anni, conosciamo perfettamente, assorbe l'1,4 del PIL tedesco che viene dato ai centri per l'impiego, coinvolge circa 80.000 persone, uno ogni 20 persone. Il sistema tedesco di centri per l'impiego, corrispondenti centri per l'impiego. Uno ogni 20 per abitanti. Però quei centri per l'impiego non si limitano solamente ad accompagnare le persone alla nuova occupazione, ma fanno anche delle parti che oggi fa l'INAIL, delle parti dell'ispettorato del lavoro, delle parti dell'INPS. Quindi oggi noi abbiamo molto decentrato e quindi il centro per l'impiego fa solo incontro trovando offerte, ma dovrebbe fare parte di formazione. Invece i centri per l'impiego tedeschi sono molto strutturati in maniera molto diversa, perché hanno come loro oggetto sociale quello che fanno, oggi invece noi lo abbiamo diviso in tanti enti, cosa facciamo? Quindi da noi c'è da dire, quindi come dicevamo, anche che a livello provinciale sono i centri per l'impiego, è su base regionale, non è andato in porto il referendum costituzionale, quindi non si può intervenire a livello nazionale, quindi oltre alla difficoltà di cambiare mentalità a soggetti che sono abituati a tutt'altro che una reale efficacia o aiuto a coloro che cercano lavoro è soddisfare anche le esigenze dei clienti, delle aziende, perché attenzione, non è che un centro per l'impiego, anche se lo fa bene il proprio lavoro, riesce a trovare poi l'azienda che è disponibile a prendere il lavoratore, perché poi l'azienda che per mettersi in pancia ha dei lavoratori, vuole avere lavoratori adeguati, vuole avere lavoratori formati, quindi vedo anche un po', secondo me comunque ci sarebbe, ci sono dei modi per fare in modo i centri per l'impiego risultino efficaci, ed è quello di farli diventare agenzie per il lavoro. Quindi ma che tipo di trasformazione, questo è avvenuto in Germania, questa cosa? Sì, loro sono delle proprie agenzie per il lavoro che fanno concorrenza con il privato, c'è da dire che laddove il pubblico, il centro per l'impiego pubblico funziona, funziona molto meglio anche il lavoro somministrato delle agenzie private, perché si innesca un meccanismo di sana concorrenza, quindi quando c'è concorrenza non può che migliorare le cose, il servizio. Noi dovremmo creare dei centri per l'impiego nazionali, fare in modo che le persone siano performanti, fare in modo che i centri per l'impiego siano, creino reddito, come le agenzie private, formare, motivare il personale, gratificare il personale, si può fare questo, ma bisogna partire da questo, non condivido il principio per il quale, di coloro che dicono non funziona, mettiamo più soldi, mettiamo più persone, significa buttare dei quattrini. Prima vai, rinnoviamo, modifichiamo, non è impossibile, poi dopo rafforziamo, facciamo di diventare dei veri e propri attori, fare in modo che siamo performanti. Il centro per l'impiego... Però che tempi secondo lei... Ma ci vogliono almeno, ma ci vuole la legislatura per far questo. Meno un cinque. Come anche il centro... Ci vuole la legislatura, va detto altresì che comunque anche fatto questo, anche fatto questo, se non c'è un sistema economico recettivo, se le aziende non producono, non migliorano, non crescono, non c'è neanche lo sbocco, quindi anche se il centro per l'impiego è performante, sono bravi, ti formano, ti aiutano, ti indirizzano, ma poi, e qua mi riferisco soprattutto alle regioni meridionali, non c'è uno sbocco professionale, resta tutta la riafrita, crei ulteriore illusione... Esatto, e qui arriviamo al discorso del reddito di cittadinanza, no? Perché poi i centri per l'impiego devono funzionare perché saranno quelli che faranno poi attuare il reddito di cittadinanza, l'elargizione e i soggetti che ne avranno diritto. Se non funziona i centri per l'impiego è tutto resta bloccato e a catena. Lei come vede questo discorso del reddito di cittadinanza lavorando per un'agenzia di lavoro interinale? Tra le cose positive che il governo uscente ha fatto riguarda alcune iniziative orientate alle politiche attive del lavoro esistono già oggi dei reddito di inclusione per esempio, esistono già adesso da marzo l'assegno di ricollocazione, quindi già delle misure orientate tra virgolette non si chiama reddito di cittadinanza ma del reddito a chi ha difficoltà già c'è. Quindi io vedo difficili cose differenti, magari cambieranno il nome ma alla fine sarà questo. Nello specifico per quello che io ho capito perché poi bisogna vedere sempre cosa viene partorito a livello parlamentare legislativo l'idea è quella di attraverso i centri per l'impiego di formare i lavoratori orientarli e dargli delle opportunità professionali al termine della terza opportunità che il lavoratore rifiuta ecco che perde e si perde il diritto però cosa succede? Ora il meridione io che sono di origini meridionali conosco abbastanza bene quelle regioni vedo difficile avere tre opportunità professionali cioè darne tre diventa avere tre avere già una è tanto ma poi non è detto che poi anche se il lavoratore dice ok accetto è che l'azienda gli vada bene il lavoratore potrebbe anche darsi che l'azienda dica no questo lavoratore non mi piace allora cosa succede? il lavoratore dice ma io ho accettato quindi ho il diritto di reddito l'azienda dice no a me questo non mi piace e cosa succede? Nascono contenziosi qui si perde per chiudere questo punto di vista che è l'impresa sempre che ha bisogno che deve decidere che è l'impresa che si mette in senno delle persone è l'impresa che ha bisogno di persone qualificate è l'impresa che se ha lavoro assume se l'impresa non ha lavoro non assume tu puoi formare la persona migliore non lo assume quindi vedo estremamente complessa questa cosa anche laddove i centri per l'impiego saranno performanti anche se diventano agenze per il lavoro come dicevo prima in alcune aree del paese è difficile non è che vi fanno concorrenza che ti mettono in concorrenza il lavoro somministrato è cresciuto perché si ha la tendenza sempre a migliorarsi quando io ho un concorrente migliore di me mi stimola a far meglio non è che mi stimola a non farlo quindi assolutamente e secondo me sarebbe anche una bella occasione per evidenziare come le agenzie per il lavoro siano veramente dei soggetti performanti soggetti che non hanno un lucro non è anche un centesimo sul lavoratore molti ribadiscono il discorso di prima con in fondo le agenzie per il lavoro con le cooperative lavoro io per esempio si dice del salario minimo ma sono assolutamente d'accordo ci sono cooperative che sfruttano che il lavoro danno 3-4 ore non tutte sono cooperative molto serie ma alcune su quello bisogna intervenire bisogna fare in modo che non ci siano questi io condivido pienamente questo va detto che il lavoro di cooperativa rispetto alla somministrazione ex interinale su cose completamente differenti disciplinari completamente differenti le cooperative lavoro possono fornire lavoratori per mano d'opera di manovalanza assemblaggio merci movimentazione merci cooperative pulizie non possono essere utilizzati i lavoratori di cooperativa in attività produttiva o impiegati nella somministrazione invece può offrire lavoratori a tutti questo è già stabilito questo da sempre solo che le persone vedono la somministrazione e la cooperativa niente cooperativa che noi paghiamo le agenzie per il lavoro detto anche dai sindacati che sono stati anche coloro che hanno fatto nascere il lavoro temporaneo il lavoro interinale nel 97 con il professor Treu è un lavoro retribuito pienamente se io lo assumo un lavoratore per tre mesi lo mando a lavorare in un'azienda per tre mesi quel lavoratore prende lo stesso stipendio che prende il lavoratore dell'azienda che lo utilizza non un centesimo di meno tutte garanzie di sciopero garanzie tutti i diritti tutti i doveri certo è un contratto che spesso è a termine no 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 chiarissimo ma spesso si trasformano poi a tempo indeterminato perché l'azienda lo prende gli piace lo prende un'occasione piuttosto che tenerlo in nero ecco io temo molto e chiudo che bisogna stare attento a non incentivare anche l'ultimo decreto purtroppo che andrà dico purtroppo perché c'è quattro punti magari ne parleremo dopo la pubblicità ne parliamo dopo infatti bisogna stare attenti a non incentivare nuovamente il lavoro nero e questo diventa un'altra problematica poi parliamo anche delle tipologie contrattuali dello staff leasing insomma di diverse questioni andiamo in pubblicità pochi secondi poi torniamo con voi grazie a tutti Grazie a tutti.